La volontà e l'amore per la maglia in questo momento si stanno accantonando perché se fosse vero, se fosse vera questa cosa avrebbe già firmato. Sappiamo che sul giocatore ci sono tre interessati. La prima è l'Inter per quanto riguarda il fronte italiano che sarebbe disposta a pagare 6 milioni annui rispetto ai 4,7 che prende il signo in questo momento. Quindi uno stipendio da top player prenderebbe all'Inter. L'Inter era già sul giocatore, ma De Laurenti si aveva offerto 30 milioni per un giocatore in scadenza e quindi Marotta aveva rinunciato in solo da andare avanti con la trattativa. Poi c'è il Manchester United, sappiamo che nel Manchester United andrà via Mata, andrà via Martial e quindi probabilmente la Premier è una cosa che insigne potrebbe stuzzicare ma non solamente l'insegna anche al procuratore, quindi ci sarebbe un aumento di stipendio in più il giocatore andrebbe a giocare in una piazza importante e insigne sarebbe una pedina dell'attacco del Manchester United.